Buonasera a tutti, brevissimo video su queste due bellissime lampade che ho acquistato del Black Friday su Amazon, il modello è il Venice Light Riva, sono lampade a LED da tavolo senza fili, sono dimerabili e impermeabili in P54 per interno ed esterno, hanno una durata della batteria fino a 24 ore, si ricaricano con un USB e hanno una luce bianca calda di colore sabbiato, molto molto interessanti se volete farvi una serata con un bel bicchier di vino come sto facendo io, creano veramente un'atmosfera bellissima, sono molto semplici, c'è un ingresso USB sotto dove si può ricaricare e si accendono e si spengono, ovviamente non sono automoti che non hanno un collegamento ad Alexa, ma quest'estate al mare spesso mi sono trovato di fronte a queste bellissime lampade e ho deciso di acquistarle anche io, in effetti sono veramente molto molto belle e creano un'atmosfera molto romantica, semplicissime, si accendono e si spengono, veramente un ottimo acquisto, consigliatissimo.